primavera di slancio per il turismo alberghi soddisfatti 4.000 cestisti a pesaro per l'adriatica cap è morto il professor roberto paolucci lutto al bramante genga 25 aprile decine di iniziative per l'anniversario della liberazione pesaro città sostenibile celebra la giornata della terra buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale che in questa edizione di giovedì 21 di aprile apriamo occupandoci di turismo siamo infatti alle porte di un di un altro weekend lungo che si conferma con numeri davvero confortanti per quello che riguarda gli alberghi e per il turismo pesarese è una palla due a far ripartire la stagione turistica pesarese dopo una pasqua foraggiata dai tornei di basket anche il weekend lungo del 25 aprile si prepara a fare altrettanto con l'adriatica cap e sui 4.000 giovani cestisti che arriveranno in città se è vero che è una rondine non fa primavera però questa è una bella rondine quindi questi eventi sono delle belle rondini e quindi ci aspettiamo dei bei risultati alberghi riempiti dal basket esclusi quelli in ristrutturazione ma con l'avvicinarsi dell'estate i cantieri dovrebbero essere ridotti all'osso poi riapriranno diciamo quasi tutte perché al netto di tre o quattro due o tre strutture che comunque sono chiuse vedi ad esempio l'hotel cruiser perché dovrà fare una grossa ristrutturazione le altre ormai c'è stato un buon avvicendamento anche nelle gestioni nelle proprietà e quindi si sta rinnovando parecchio anche l'offerta alberghiera di Pesaro. Turismo estivo che a livello di prenotazioni non è però immune dalle vicende internazionali della guerra in Ucraina. Diciamo che le prenotazioni sono direttamente correlate alle notizie che arrivano dall'estero e quindi purtroppo questo ci rallenta molto nelle prenotazioni e nell'avere maggiori soddisfazioni. Da contraltare c'è però un positivo propulsore interno come il riconoscimento di Pesaro capitale della cultura 2024. È una cosa molto importante anche perché ha avuto subito un riflesso notevole e già ci sono degli interessamenti delle richieste proprio per questo motivo le persone magari hanno conosciuto la città di Pesaro grazie all'informazione che c'è stata su Pesaro 2024 è un grande obiettivo che dobbiamo riuscire a cogliere tutti insieme. Bene il volano promozionale ma si cerca di fare di più anche nel disciplinare la movida visto che il primo weekend di bella stagione ha già generato vandalismi agli stabilimenti balneari la notte di Pasqua nella zona di Levante. Questo è un grosso problema è un problema che noi lamentiamo ormai da anni il fatto di dover rispettare di far rispettare le regole. Sappiamo che poi ci sono dinamiche diverse per quanto riguarda i locali e quello che vorrebbero gli albergatori in questo senso però dobbiamo lavorare perché questi episodi non accadano e soprattutto stare molto attenti a quello che succede nei dintorni di questi locali perché poi se è vero che i locali a una certa ora chiudono abbassano la musica e quant'altro però comunque si crea tutto un indotto di persone che nella notte poi possono fare anche di queste cose. E come avete appena visto nel servizio che vi abbiamo mostrato è un turismo di primavera che si sta giovando tanto dei tornei di basket. Da sabato ad esempio torna l'Adriatica Cup con numeri che la confermano come la rassegna di basket più grande d'Italia a livello giovanile. 160 squadre, 4000 atleti, 500 partite, 110 arbitri, 30 palestre. Ecco i numeri della Adriatica Cup, mastodontico torneo di basket giovanile che sarà a Pesaro da sabato 23 a lunedì 25 aprile convogliando categorie di pallacanestro maschile dal minibasket all'under 17. Dopo due anni di stop per Covid l'Adriatica Cup torna a Pesaro con la 25esima edizione e il 19esimo Memorial Giorgio Marollo ha nemmeno una settimana dalle migliaia di giovani cestisti arrivati in città per i tornei di Pasqua, Olimpia e Ciaurudi. Un'ulteriore conferma al basket polmone del turismo primaverile pesarese. Il mio torneo è il torneo da 15 anni il più grande d'Italia. Quest'anno abbiamo 160 squadre, devo dire che ne ho lasciati fuori una trentina perché poi comunque tra qualche struttura che non hanno aperto per restauro e qualche altra che avevano problemi siamo riusciti a portare qualcosa a gabice ma a livello di trasporti poi non davamo la qualità come in loco. Noi è un torneo che diamo tutti i trasporti perché è un puzzle che se qualcosa tarda salta tutto quindi con la collaborazione dell'AMI siamo riusciti a prendere 16 pullman che gireranno nella città e speriamo che sia bel tempo e che ci sia una bellissima manifestazione. Cambiamo argomento e parliamo della scuola Bramante-Genga che ha perso una delle sue colonne il professor Roberto Paolucci venuto a mancare all'età di 60 anni. Si è tenuto questo pomeriggio alla chiesa dell'Annunziata di Urbino il funerale di Roberto Paolucci da 15 anni docente di progettazione all'Istituto Bramante-Genga di Pesaro. Paolucci Urbinate se ne è andato da appena 60 anni stroncato da una malattia. La scuola pesarese da ieri attraverso Facebook ha ricordato con commozione l'enorme vuoto lasciato da un docente appassionato, amante del suo lavoro e della dedizione all'insegnamento. Una commozione propria dell'ex dirigente scolastico Anna Gennari che fino allo scorso anno ha lavorato gomito a gomito con Roberto. È vero, il professor Paolucci ha amato molto la scuola, ha creduto nel suo ruolo sociale, nel suo valore ha creduto nell'innovazione e si è speso tantissimo per lanciare nuove idee, nuove sfide con una capacità direi unica di coinvolgere i ragazzi e spingervi verso nuovi traguati ed è sempre stato un grandissimo lavoratore, un professionista serio, preparato, un docente meraviglioso un collaboratore preziosissimo, generoso, sempre pronto ad aiutare chi aveva bisogno sempre pronto a dire una parola di conforto a chi stava soffrendo sempre pronto a mettersi in gioco anche, ad affrontare sempre i problemi che ogni giorno si presentavano a scuola mi piace ricordare una frase che lui diceva facciamo i fatti, si è preso cura dei suoi ragazzi è stato per loro una guida fondamentale, espronandoli, incoraggiandoli ad affrontare sempre nuovi compiti impegni faticosi, ma veramente importanti anche poi per affrontare la vita, la vita al di fuori della scuola direi che la sua riservatezza forse poteva rendere non facile avvicinarsi al suo mondo ma chi lo ha conosciuto sa, sa che per lui la famiglia era fondamentale lui credeva ciecamente nella famiglia e quanto adorava anche i suoi amatissimi figli, Damiano e Maria Vittoria al centro del suo cuore proprio in ogni momento Ivan, l'amico Ivan Cottini dice che abbiamo perso una rara persona io dico che le persone non muoiono mai se li hai nel cuore è chiaro, perdi la loro presenza, perdi la loro voce ma ciò che lui ci ha lasciato, ciò che lui ci ha insegnato questo noi non lo perderemo mai certamente lascia un grandissimo voto, questo senz'altro, il grande Roberto ed è per questo che ora i nostri occhi sono gonfi di lacrime e il dolore del distacco è veramente grande grazie di tutto Roberto L'allentamento delle misure anti-covid dopo due anni allarga la possibilità di celebrazione di un momento solenne come quello del 25 aprile per l'occasione l'AMPI promuove decine di iniziative su tutto il territorio provinciale organizzate dalle sezioni 25 marzo di Cantiano, Città di Pesaro, Gabiccemare, Gradara, Tavuglia le Dantinori di Fano, Montefeltro, Valcesano, Valmetauro e Urbagna per quello che riguarda Pesaro, lunedì il 77esimo anniversario della liberazione si aprirà con la messa in memoria dei caduti alle 9 al Duomo a seguire la deposizione delle corone al Sacrario di Piazzale Collenuccio e alla Cappella Votiva di Sant'Ubaldo il corteo poi si sposterà verso il Monumento alla Resistenza dove sono previsti gli interventi delle associazioni combattentistiche d'arma dell'AMPI, dei rappresentati degli studenti e del sindaco di Pesaro Matteo Ricci la cerimonia sarà accompagnata dalla banda di Candelara con un servizio d'onore di un picchetto dell'esercito italiano far rivivere a studenti, turisti e pesaresi le tappe della liberazione di Pesaro tramite quattro percorsi dentro la città e questo l'obiettivo di Incerca di una Storia ovvero la mappa ideata e promossa proprio dall'AMPI Pesaro con il sostegno della Presidenza del Consiglio Comunale in occasione di un 25 aprile in cui si vuole promuovere e stimolare una conoscenza più approfondita, sentita e consapevole dei luoghi della liberazione dal nazifascismo per quel che riguarda la città di Pesaro una possibilità di riscoperta di luoghi e di momenti storici attraverso una mappa che in questi giorni sarà distribuita in città Apri la tua attività in un borgo Regione Marche e Camera di Commercio hanno finanziato un bando che ha l'obiettivo di incentivare l'animazione territoriale e lo sviluppo di nuove imprenditorialità nei comuni con meno di 5.000 abitanti situati ad almeno 15 km dalla costa un importante incentivo contro lo spopolamento e la valorizzazione di un patrimonio regionale con possibilità di inoltrare domanda per i contributi entro il 30 di settembre e torniamo su Pesaro dove da qualche giorno è tornata ad essere chiusa al traffico via Fratti così come l'intersezione con via Belgioioso e via Giolitti una tematica che sarà affrontata questa sera alle 21 quando l'assessore all'operatività Enzo Belloni assieme a tecnici comunali incontrerà i cittadini nella sede del quartiere Monte Granaro Moraglia in via Petrarca per illustrare i nuovi progetti di ciclabili e allacci fognari ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo a inviarci al numero whatsapp dedicato 370-366-7210 un nostro telespettatore ci segnala attraverso queste foto lo scriteriato abbandono di rifiuti al di fuori di cassonetti e isole ecologiche che avviene sistematicamente nei pressi di un supermercato di via salvo d'acquisto a Pesaro un malcostume che si ripete visto che appena un mese fa lo stesso telespettatore ci aveva segnalato queste altre fotografie che testimoniavano abbandoni pure di rifiuti ingombranti come poltrone e materassi e da una segnalazione davvero manifesto di maleducazione passiamo ad una tre giorni che va nella direzione opposta quella della giornata mondiale della terra celebrata dalla rete cittadina Pesaro Città Sostenibile A Pesaro credo che non si sia mai fatta ancora un'iniziativa di questo tipo specifica sulla giornata mondiale della terra che è una delle tante iniziative promosse a livello internazionale dall'ONU questa iniziativa ha lo scopo di avvicinare sempre di più i cittadini a quelle che sono le tematiche di tutela dell'ambiente ma non in senso stretto tutto quello che è l'intervento antropico quindi l'intervento dell'uomo sul nostro territorio potrebbe teoricamente migliorare il modo di vivere nel territorio nella realtà negli ultimi 100-150 anni quello che sta avvenendo a livello globale ma purtroppo anche a livello di Pesaro e provincia è esattamente il contrario stiamo creando un ambiente invivibile invivibile già per noi tanto più invivibile per le future generazioni questa iniziativa ci svolgerà in tre giorni la prima serata all'auditorium di Palazzo Montani Antaldi gentilmente concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro vedrà innanzitutto la proiezione di un film di un documentario che si chiama Anamei tradotto sono i Guardiani del Bosco in particolare vertirà su quello che avviene nella foresta ammazzonica soprattutto la deforestazione già avviata dai governi precedenti e purtroppo portata avanti in maniera massiccia e selvaggia dal governo brasiliano attuale a questa proiezione seguirà un dibattito che verrà condotto e gestito dal giornalista Lorenzo Furlani il giorno successivo il sabato 23 si svolgerà praticamente al Parco Miralfiore nella cornice magnifica del Parco Miralfiore a Parco Miralfiore nell'area intorno alla Serra degli Agrumi ci verrà installata una piccola mostra dal titolo piante le nostre eroine perché non possiamo farne a meno che è a cura delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di primo grado Gaudiano che ringraziamo con la presenza della professoressa Giulia Galli contemporaneamente o subito a seguire la guida naturalistica Andrea Fazzi accompagnerà bambini, famiglie tutti quelli che vorranno essere presenti a due visite guidate all'interno del parco il giorno successivo l'ultimo di queste tre giorni alle nove partirà un'escursione nel parco in un sentiero in particolare del Parco Naturale del San Bartolo con la guida naturalistica Laurent Sonnet poterci passeggiare accompagnati da una guida preziosa come Sonnet che possa mettere in luce tutti quelli che sono i singoli aspetti anche derivanti dalla presenza dell'uomo all'interno di questo parco naturale crediamo che siano momenti importanti abbiamo inserito nella locandina anche un numero di telefono per le pronotazioni perché è obbligatorio la pronotazione in quanto la guida può condurre solo un certo numero di persone ecco con questa iniziativa come detto prima abbiamo vorremmo cercare di sensibilizzare sempre di più i cittadini pesaresi su quelle che sono le tematiche specifiche legate al nostro territorio va posta attenzione su tutto quello che avviene sta avvenendo o avverrà a livello locale ogni scelta delle nostre amministrazioni attuali, passate, presenti o future impatta su ogni singolo cittadino questa è l'opera principale di Pesaro Città Sostenibile quello di coinvolgere il più alto numero di persone in quelle che sono le scelte dell'amministrazione locale non è un movimento politico non abbiamo finalità di tipo elettoralistico eccetera è un movimento culturale innanzitutto per sensibilizzare le persone a queste tematiche e c'è anche un po' di Pesaro nelle tour di Claudio Baglioni che sta attraversando l'Italia in queste settimane quello dell'airstylist pesarese Lorenzo Bernardini che da 5 anni si occupa delle acconciature del grande artista è uno degli eventi musicali del momento 12 note e il tour che sta rimbalzando in giro per l'Italia le note della musica senza tempo di uno dei mostri sacri della canzone tricolore come Claudio Baglioni una tournée che ha anche una componente pesarese quella delle acconciature dell'airstylist Lorenzo Bernardini mi viene impegnato in prima linea perché in pratica sto seguendo questo tour di Claudio Baglioni perlomeno tutte le date qui in zona nella parte centrale del centro Italia quindi ho già fatto una decina di date adesso in programma c'è anche quella clou che farà giù alle Terme di Caracalla Roma dove sarà un evento che oltre perché le date che sta facendo adesso sono sui teatri ed è lui da solo che tiene proprio tutti questi concerti di due ore due ore e mezza dove è completamente solo sul palco e fa tutto lui suona, canta, presenta si autogestisce il tutto mentre invece la Terme di Caracalla fa uno show di quelli con più di cento persone a fianco nel suo staff quindi farà una cosa un po' grandiosa quella fra Baglioni e Bernardini è anche diventata una partnership stilistica consolidata negli anni ormai sono con lui sono ormai cinque anni più o meno che tutte le varie date che fa nella zona qui mi contatto sempre quindi ormai diciamo che è nato una buona partnership per quanto riguarda questo connubio di musica sua e capelli miei da Baglioni al Festival di Sanremo Lorenzo Bernardini lo scorso febbraio è stato per la sesta volta anche al lavoro nei retroscena dell'Ariston per le acconciature dei cantanti in gara diciamo con le personalità diciamo del mondo della musica collaboro con diversi diciamo con diversi cantanti però adesso non per spezzare una nazione a favore di Baglioni ma sicuramente lui è uno degli storici della musica italiana anche perché ti posso garantire che ai suoi concerti se fa per dire 50 canzoni uno le canticchie tutte 50 quindi è conosciuto ha un diciamo un repertorio ampio ma molto molto conosciuto e si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News prima di salutarci una ricca carrellata di appuntamenti a cominciare dalla prima serata di questo giovedì giovedì che come sempre è la serata dedicata al basket e insieme a Canestro con la diretta di una nuova puntata che avrà come ospiti la guardia della Carpegna Prosciutto Pesaro Umberto Stazzonelli e l'allenatore del settore giovanile della VL Paolo Calvini appuntamento come sempre in diretta alle 21.20 prima replica domani alle 15.45 e per chi invece si fosse perso poco fa la puntata una nuova puntata di Pesce Azzurro Quiz Show questo nuovo format davvero divertente con gli amici del San Costanzo Show la può rivedere anche alle 22.30 con la replica che andrà in onda anche domani alle 12 alle 17 e mentre domenica doppia replica quella che comprende anche la puntata che va in onda il martedì alle 19 doppia replica che sarà alle ore 21 e poi domani vi rinnoviamo l'appuntamento come ogni venerdì con il Valle Foglia e Pian del Brusco lo magazine il telegiornale di questo territorio curato da Edoardo Razzi che va in onda con prima edizione alle 20 e con prima replica alle 23.15 appuntamento a domani e sempre domani ricca serata sportiva con il ritorno delle partite in diretta su Rossini TV dell'Ital Service Pesaro che dopo la pausa pasquale torna in campo ad Avellino contro la Sandro Abate partita che potrete seguire sul canale 80 a partire dalle 20.30 altra diretta ma di tutt'altro genere è quella di sabato 23 aprile un appuntamento importante una funzione religiosa quella della Santa Messa e del saluto alla diocesi di Pesaro di Monsignor Piero Coccia che dunque cessa la sua funzione da arcivescovo di Pesaro dunque non perdetevi questo appuntamento sabato 23 aprile in diretta dalle Duomo alle 18.30 e vi anticipiamo anche qualcosa del mese di maggio perché riparte qua la zampa dopo il successo della prima edizione concedono il bis il nostro Giacomo Jack Lucchetti e la sua Juliet che vedete appunto sui nostri schermi in questo momento dal 3 maggio nuova edizione che andrà in onda tutti i martedì alle 21.20 dunque non perdetevi qua la zampa da martedì 3 maggio nuova edizione e dunque tanti appuntamenti come saranno tanti i nuovi programmi che da maggio partiranno che vi presenteremo anche nel nostro telegiornale nelle prossime edizioni l'abbiamo già fatto ieri con tre tazze di tè vi presenteremo anche i prossimi programmi compreso qua la zampa ed è davvero tutto per questa sera ora ci sono le previsioni del tempo e a me non resta altro da fare che salutarvi e augurarvi una buona serata in compagnia dei nostri programmi grazie a tutti grazie a tutti